bentrovati bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it continuiamo con il modulo avanzato di after effect parlando ancora di trasparenza ma quest'oggi parlando delle maschere cos'è una maschera non è altro che uno strumento che ci permette di rendere visibile una porzione di immagine nascondendone un'altra facciamo un esempio importiamo nel nostro progetto una fotografia che portiamola nella nella nostra composizione ed eccola qui creiamo subito una maschera vado abbastanza rapido perché nel modulo base abbiamo visto come creare una maschera quindi selezioniamo il livello strumento rettangolo per esempio disegniamo una maschera eccola qua la porzione di immagine che cade all'interno della nostra maschera è visibile la porzione di immagine che va all'esterno chiaramente viene nascosta questo è il concetto base di maschera fate attenzione lo ricordo per chi non avesse seguito la lezione del corso base dicevo fate attenzione a selezionare il livello su cui volete applicare la maschera perché se non lo selezionate andate a disegnare un rettangolo create un'altra cosa ovvero una forma geometrica che sarà argomento molto approfondito delle prossime anche lezioni del corso avanzato perché con le forme geometriche si possono fare veramente tantissime cose ma ne parleremo in un'altra lezione quindi ribadisco selezioniamo e disegniamo la nostra maschera come modificare la nostra maschera beh intanto notate come esistano dei manipolatori delle maniglie per meglio dire ok ai bordi della nostra della nostra maschera torniamo nella modalità selezione quindi clicchiamo ancora sul bottoncino e qui in alto a sinistra o premiamo il tasto di scelta rapida vi di venezia e vedete come io possa cliccare su queste maniglie e posso muovere tranquillamente l'intera maschera ok posso anche selezionare una singola maniglia magari per deformare la mia maschera come fare bene seleziono deselezionato tutto riseleziono la maschera e a questo punto clicco fuori per esempio qui vedete che cliccando fuori dalla maschera ecco vengono deselezionati tutti i punti prendo un singolo punto e lo vado a modificare piccola piccolo consiglio tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera e trascinando vado ad ancorare il movimento sulla verticale o sull'orizzontale a seconda di dove mi sto muovendo in quel momento tasto shift della della tastiera per esempio posso creare una una maschera di questa di questo tipo ok noto come le maschere possano essere animate ed è lì la forza di una maschera come fare per animare una maschera io vado anche qui abbastanza veloce perché ne abbiamo già parlato nel corso nel corso base nel modulo base a espando le proprietà che compongono la maschera 1 seleziono il tracciato maschera e accendo il cronometrino quindi lo stop watch che mi permette di utilizzare i keyframe quando attivo lo stop watch viene automaticamente generato un primo fotogramma chiave che in qualche modo memorizza la posizione del tracciato della maschera stessa vado un pochettino avanti modifico ancora la mia maschera opla deseleziono e riseleziono per esempio così è un esempio vedete che viene automaticamente generato un secondo keyframe se vado a mandare in play after effect avrà cura devo espandere chiaramente l'area per il rendering after effect avrà cura di creare l'animazione ok questo è come animare una maschera e animare i punti che compongono una maschera una maschera in after effect ha delle proprietà come tutti gli oggetti come tutti i livelli come molti degli strumenti di after effect se andiamo a guardare oltre al tracciato della maschera abbiamo la sfumatura della maschera espressa in pixel cos'è la sfumatura come dice la parola stessa mi permette questo questa proprietà di sfumare i contorni della mia maschera quindi così avrò una maschera rigida dura ok con bordi netti definiti aumentando la sfumatura posso aumentare ecco il grado di passaggio dalla zona visibile a quella non visibile ho altre proprietà ovviamente molto utili non sono tantissime l'opacità l'opacità della maschera che mi permette di rendere più o meno opaca la maschera stessa ne parleremo meglio quando vedremo l'utilizzo di più maschere tra poco e ovviamente l'espansione della maschera perché io questa maschera posso volerla di queste dimensioni ma come potete vedere aumentando questo valore sempre espresso in pixel posso ingrandire la dimensione in questo caso non dell'immagine ma della maschera che va appunto a nascondere la porzione di immagine o posso contrarre la maschera ecco un consiglio animare questa proprietà può essere molto utile per creare per esempio una transizione io vado a dare un keyframe a questo punto e imposto questo momento della maschera questo fotogramma della maschera a un valore di espansione molto piccolo vado un pochettino avanti aumento l'espansione di questa maschera mando in play e guardiamo insieme cosa è accaduto qui si compongono due cose per la precisione ovvero il movimento dei punti che compongono la maschera e anche l'espansione della maschera o in qualche modo creato se volete una transizione è un modo per creare transizioni questo di utilizzare le maschere utilizzare le maschere per creare transizioni è molto più utile e molto più importante se si utilizzano per esempio più maschere contemporaneamente facciamo un esempio ingrandisco questa fotografia in maniera tale che mi copra tutto lo schermo vado a disegnare una prima maschera quindi seleziono il livello ovviamente a questo punto vado a disegnare la maschera numero uno ok vado a disegnare una seconda maschera vedete non tocco nulla tengo il livello selezionato e lo strumento rettangolo e vado a disegnare una seconda maschera posso non essere super preciso bene a questo punto tornando nella modalità selezione prendo la maschera numero due ricordate come si fa a modificare una maschera non abbiamo detto abbiamo detto poc'anzi cliccando sul bordo vedete che ho la possibilità di lavorare o con tutti quanti i punti oppure cliccando fuori posso andare a prendere i singoli punti quello che non vi ho detto però è che possiamo per esempio fare doppio clic su un lato della nostra bar della nostra maschera ecco per avere delle maniglie ancora più pratiche per esempio per lo scopo che ci stiamo prefiggendo in questo tutorial quindi doppio clic sul bordo della maschera o delle maniglie ancora più più utili ok vado ad unire manualmente le due maschere in maniera tale ecco che non si veda attraverso ok a questo punto posso lasciare la prima maschera così com'è vado per esempio ad animare entrambe le maschere quindi la maschera 1 e la maschera 2 vedete che io qui sto utilizzando più di una maschera no iniziamo con l'animare la maschera 1 ok punto di partenza della maschera 1 voglio che sia completamente fuori dal nostro schermo punto di partenza della maschera 2 stessa identica cosa la porto fuori dallo schermo a questo punto seleziono entrambe le maschere premo m di milano sulla tastiera per visualizzare le proprietà delle maschere se non vedete apparire subito queste proprietà fate cliccate più volte sulla m della vostra tastiera e aggiungiamo keyframe sulla voce tracciato maschera se avete le due maschere selezionate insieme basta fare clic su una proprietà che viene automaticamente vedete acceso il keyframe anche sull'altra vado un pochettino avanti a questo punto muovo le due maschere quindi comincio dalla maschera per esempio numero 2 ok quindi se clicco deseleziono se vi avete difficoltà nella selezione e fate qualche qualche cosa di sbagliato deselezionate e riselezionate senza problemi quindi faccio doppio clic abbiamo detto sulla prima maschera la espando faccio doppio clic anzi faccio clic singolo e faccio doppio clic sui bordi della seconda maschera ed espando anche la seconda maschera ingrandite se avete l'esigenza di ingrandire e vedete che after effect ha inserito i due keyframe al posto nostro andiamo in play abbiamo creato una piccola transizione customizzata come potete vedere utilizzare le maschere molto utile per creare transizioni e dissolvenze su misura per le nostre esigenze ma voglio farvi notare un'altra cosa l'utilizzo di due maschere può essere molto utile per esempio per giocare con quelle che sono le intersezioni o altre proprietà delle maschere mi spiego meglio disegniamo una maschera quindi selezioniamo il livello e disegniamo un rettangolo sempre con il livello selezionato disegniamo ora per esempio un cerchio eccolo qua voi direte va bene ok abbiamo due maschere sostanzialmente che si sommano la maschera del rettangolo si somma alla maschera del cerchio come mai beh se fate caso abbiamo entrambe le maschere impostate su aggiungi quindi la maschera 1 viene aggiunta e sommata alla maschera 2 proviamo a impostare la maschera 2 su un altro valore per esempio sottrai guardate cosa accade la maschera 2 viene sottratta alla maschera 1 e questo è un buon modo per esempio per creare rapidamente delle forme un po più complesse rispetto a un semplice da un semplice rettangolo a un semplice cerchio attenzione che l'ordine è importante se la maschera 2 giacesse sopra la maschera 1 vedete che la situazione viene praticamente invertita in questo caso sottrae ad essere sottratte sempre la maschera 2 2 1 ok abbiamo qui dato un nome sbagliato e il risultato chiaramente è diverso a proposito del nome ricordo che le maschere possono essere nominate basta selezionarle premere enter sulla tastiera e dare il nome che preferite per esempio maschera 01 chiaramente premete enter nuovamente per dare l'ok selezionate la maschera in questo caso fucsia date enter con la tastiera maschera 02 ancora enter sulla tastiera e questo ci aiuta a essere ordinati potete cambiare anche il colore della maschera ed è un colore totalmente al nostro gusto e piacimento che serve solo per lavorare comodamente in fase di progettazione come potete vedere le maschere prendono il colore che abbiamo impostato qui nella composizione non vengono renderizzate queste maschere questi queste linee chiaramente servono solo a noi per lavorare se non volete vedere queste linee volete vedere come com'è l'immagine senza il disegno delle maschere se fate caso qui in basso c'è un bottoncino eccolo qui che ci permette come dice la didascalia di attivare disattivare la visa la visibilità tracciato forma e maschera bene clicco per deselezionarlo vedete che le maschere sono sempre lì però chiaramente non vedo i tracciati e accendo beh ricordate che ovviamente non possiamo non dobbiamo limita limitarci solo al rettangolo per disegnare le nostre maschere ma per esempio possiamo accedere anche alle altre forme geometriche per esempio all'ellisse io disegno un ellisse a mano oppure faccio doppio clic sulla sullo strumento ellisse per avere una un ellisse che in qualche modo tocchi tutti i bordi della nostra immagine originale perché può essere utile questa 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 ellisse per esempio perché io potrei voler ad esempio disegnare quella che viene chiamata una vignetta ovvero avere un effetto vignetta sulla mia immagine quindi per esempio restringo i bordi della mia maschera ok espando per esempio le proprietà della maschera ecco qui vado a sfumare la mia maschera ecco qui espando la maschera ok diminuisco un po l'opacità ok ed ecco per esempio che ho una vignetta che chiaramente in questo caso va a fondersi con quello che è il mio background ma se volessi una vignettatura nera basta aggiungere sotto un colore a tinta unita un livello a tinta unita di esempio nero ed ecco che automaticamente la maschera mi permette di guardare attraverso e in questo caso avrei sotto un colore nero e quindi ho un effetto vignetta ovviamente non abbiamo soltanto la possibilità di utilizzare delle forme geometriche come maschere se vogliamo sentirci liberi di creare delle maschere un po in maniera libera a mano come se avessimo una penna per esempio con cui disegnare una maschera possiamo utilizzare la penna ok lo strumento penna fa un po quello che fa lo strumento penna per esempio in photoshop piuttosto che in illustrator ci permette questo strumento di disegnare come potete vedere delle maschere con forme geometriche totalmente su misura in base alle nostre esigenze fino a quando questo tracciato non viene chiuso ecco è semplicemente un tracciato una maschera che chiaramente non ha effetti visibili ma appena vado a chiudere il tracciato vedete che viene creato il canale alfa e automaticamente questo questo tracciato diventa una vera e propria maschera ovviamente lo strumento penna ci permette anche di creare delle maschere non per forza ad angolo retto ma anche curve con le famose curve besie quindi potete dare una forma geometrica su misura in base alle vostre necessità esistono le tangenti se siete un po pratici di photoshop questi concetti sono esattamente quello che a qui siete abituati e ricordate che tutti questi punti sono sempre anima animabili ok con qui la voce tracciato maschera come abbiamo visto prima stiamo per chiudere il tutorial ma prima di salutarci voglio farvi notare come le maschere non servono solo per creare la trasparenza ok di questo abbiamo parlato nello scorso tutorial e di questo abbiamo parlato quest'oggi ma le maschere sono molto utili anche per creare delle degli effetti avanzati ci torneremo nelle prossime lezioni del corso voglio solo mostrarvi cosa intendo con effetti avanzati ipotizziamo di avere un testo per esempio ciao mondo ok ingrandiamo un pochettino questo testo centri amolo vado abbastanza veloce perché su queste cose ci siamo già soffermati all'inizio dello scorso modulo ipotizziamo di voler non so per esempio disporre queste lettere in cerchio come fare bene vado sullo strumento testo seleziono lo strumento ellisse disegno in questo caso ok una vera e propria maschera come abbiamo fatto poc'anzi posso spostare questa maschera esattamente come abbiamo visto prima notate come io possa poi animare possa giocare molto con le maschere ma per disporre il testo lungo questa maschera posso accedere alle proprietà del testo del testo stesso andare alla voce opzioni tracciato e scegliere alla voce tracciato la maschera uno che ho appena disegnato clicco e guardate cosa è accaduto il testo si è disposto lungo il tracciato della maschera che ho disegnato ci torneremo su questo concetto perché è molto utile chiaramente ci sono diverse opzioni che non vediamo quest'oggi questo per mostrarvi semplicemente come le maschere siano molto utili non solo per creare la trasparenza ma anche per accedere a possibilità avanzate effetti avanzati per esempio quando si lavora sul testo volete un altro esempio beh creiamo una tinta unita del colore che noi vogliamo tanto lo cambieremo e lo renderemo trasparente non ci interessa abbiamo una tinta unita e a questo punto il nostro sfondo è bello che è andato però disegniamo un tracciato per esempio prendiamo la penna e creiamo un tracciato aperto in questo caso ok andiamo tra gli effetti potete scegliere la libreria degli effetti qui sulla destra effetti predefiniti o potete cliccare con il tasto destro del mouse dentro al pannello controllo effetti e scegliamo dalla voce genera l'effetto tratto clicchiamo e guardate che questo effetto ha disegnato un tratto come se avessimo usato un pennello per mostrarvelo meglio spengo la visualizzazione della maschera e vedete che effettivamente il tratto resta e nelle proprietà di questo effetto posso per esempio andare a modificare il colore del tratto ok posso modificare la larghezza del tratto e soprattutto posso dire ad after effect di disegnare questo tratto su un background trasparente quindi il rosso che compone la tinta che ho appena creato cliccando la voce su trasparente viene trasformato sostanzialmente in un canale alfa quindi diventa invisibile ma il mio tratto resta visibile un altro effetto che utilizza le maschere per esempio sempre nel menu genera è l'effetto chiamato vegas molto bello chiaramente dovete sempre sempre disegnare prima una maschera noi qui la maschera la abbiamo ok seleziono dal dal menu del dello strumento vegas lì la maschera che voglio utilizzare quindi per esempio vedete maschera tracciato ok il tratto che voglio creare deve essere basato su una maschera quindi maschera bar tracciato e vedete già quello che sto cercando di mostrarvi anche qui imposto la voce trasparente nella voce modalità diffusione in maniera tale che il rosso sparisca e vedete che viene creato un tratto appunto tratteggiato questo può essere molto utile e soprattutto può essere tutto animato quindi se volete per esempio creare l'effetto di luci no intorno ad una scritta lo strumento vegas può essere molto utile questo insomma per mostrarvi solo rapidamente come utilizzare le maschere possa essere utile non soltanto per mascherare una porzione d'immagine appunto ma le maschere sono molto potenti perché utilizzate con alcuni effetti ci permettono di creare delle cose molto avanzate molto carine non vi preoccupate su alcuni concetti torneremo in altre lezioni e vi farò vedere praticamente cosa cosa voglio dire per il momento vi ringrazio www.fabbiambrosi.it registratevi a questo canale youtube mettete un like se questo video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici vi aspetto su facebook cercate la pagina fabbio ambrosi e ovviamente anche su instagram ci troviamo online grazie al prossimo video tutorial ciao ciao